Per voi è un anno di grande successo con una presenza significativa di pezzi per aziende diverse. Quindi è cambiato qualcosa nel vostro approccio? Come mai questo grande lavoro improvviso? Ti rispondo con molta sincerità. Forse la maturità ha qualche vantaggio lo porta. Nel mio caso credo che ci sia stato un lavoro forse fatto interiormente che mi ha portato a dare più tempo, più spazio e quindi forse anche la creatività magari ne ha beneficiato. Non so, una rilassatezza, una consapevolezza che la vita è fatta di tanti aspetti. Questo secondo me ha portato anche a una maturazione nel progetto. Poi ci siamo resi conto forse di quanto siamo fortunati a fare un lavoro creativo, di quanto sia bello potersi esprimere. E tutto questo farlo lontano dalla pressione e con molta tranquillità ha portato a dei risultati che sono venuti con molta naturalezza. Tra l'altro in un mondo che ormai è globalizzato però voi avete la particolarità di avere scelto di vivere lontano diciamo dalla capitale del design o dai centri del grande dibattito. Ecco, questo in qualche modo influisce in positivo e in negativo nel vostro modo di progettare? È molto importante vivere qui a Milano perché in fondo è la città dove tutto accade. Ma se tu non hai quel carattere che ti porta poi a frequentare con gioia, incontrare con gioia, stare diciamo sempre in contatto e vivere veramente la città come va vissuta, forse non ha tanto senso viverla, no? Quindi se si è piuttosto introversi forse è meglio invece vivere in un luogo dove i ritmi sono più lenti, dove le pressioni sono sicuramente inferiori, dove è molta più possibilità di concentrarti anche, di stare nel silenzio, di concentrarti e quindi di avere anche un approccio più umile forse alla vita perché nessuno magari nemmeno sa che cosa è il design, questo ti porta a ridimensionare un po' tutto e avere meno pressione. Per il carattere che abbiamo sia io che Daniele credo che sia stata la scelta giusta. E poi c'è un'altra domanda obbligatoria che probabilmente ti aspetti. Voi siete una coppia sul lavoro ma anche una coppia nella vita. E in particolare si parla molto di design al femminile, si è parlato anche molto invece all'interno delle coppie di progettisti di una prevalenza dello spirito maschile. Come vivete questa cosa? Come l'avete vissuta negli anni? Questa è una domanda difficile. C'è stata una trasformazione in un'evoluzione. Sicuramente all'inizio la sua forza era molto più presente, ma probabilmente forse anche perché io ero meno pronta. Poi invece con il passare del tempo ci siamo un po' forse scambiati i ruoli, non lo so. Adesso è come se fosse venuta in qualche maniera fuori anche la mia parte femminile in maniera molto decisa, molto più forte. Ma questo deriva dalla sicurezza che io ho acquisito. Quindi in realtà poi credo che in una coppia, indipendentemente dai ruoli e dal sesso, ci sia sempre uno scambio. Cioè chi deve fare il razionale e chi può fare l'emotivo, chi può fare il poetico e chi deve guardare a mandare avanti lo studio. Quindi forse nel tempo ce li siamo anche scambiati questi ruoli. Però è sicuramente vero che adesso io sto molto bene nella mia pelle e questo si vede. E cerco di portare questa mia visione, che sicuramente è un pochino più poetica, più tenera, più quieta, nel lavoro. E devo dire che lui lo sta accettando non solo molto bene, ma ne è felice. Perché poi alla fine è bello vedere comunque dei cambiamenti, non si può pensare di rimanere sempre uguali. Quindi forse anche lui si sta poi lasciando andare, sta venendo fuori una parte femminile molto bella che poi si vede anche nel progetto. Le cose che avete presentato in questo Salone 2019 sono, come dicevo, molte e lavorano anche su principi diversi. Ad esempio, nel progetto di EMU mi sembra che la componente della memoria sia molto presente. Sì, è vero. Tra l'altro ci è capitato molto spesso negli ultimi anni di affrontare questo tema. E lo abbiamo sempre affrontato però con uno sguardo contemporaneo. Cioè non ci interessa riproporre degli stilemi classici. Ci interessa andare a recuperare quel discorso di conoscenza, di una cosa che tu già conosci e che quindi in qualche modo ti avvicina. E quindi parlo di una memoria, di un oggetto che ha una memoria, che tu conosci, che ti mette a tuo agio. Però puoi riportarlo nella contemporaneità. Quindi comunque uno studio delle forme, un'attenzione ai dettagli, una freschezza, anche una scelta di materiali, finiture, colori, che è del tutto contemporanea. E credo che questo poi è quel tipo di design che comunque ci interessa perché è quello che entra facilmente nelle case delle persone, perché è un design confidenziale, che crea un'atmosfera rilassata e che poi è quello che appunto in periodi storici anche così particolarmente difficili e quindi forse andiamo anche tutti un po' a ricercare perché abbiamo bisogno di valori e forse anche un po' di sicurezza di essere rassicurati. Invece un altro pezzo molto bello, uno specchio che avete disegnato per Tonelli. E lì invece il codice di inizio del lavoro, diciamo, è un riferimento all'arte, a Soluit in particolare. Ecco, è una vostra cifra? È una cosa che avete iniziato con questo pezzo? No, in realtà è successo molto spesso negli anni di prendere ispirazione dal mondo dell'arte. È successo, mi ricordo, per esempio con un radiatore. Succede molto spesso perché è lì che andiamo ad attingere. Comunque tutti i designer, tutti i creativi attingono al mondo dell'arte piuttosto che a tutte le forme d'arte che ci circondano, la cinematografia, leggere un libro, qualsiasi cosa, una fonte di ispirazione. E in quel caso guardare quelle opere ci ha veramente fatto scattare un'osservazione che poi abbiamo cercato di tradurre in questo prodotto che è molto puro, ha una forma molto pura, molto minimale, perché la cornice è parte essa stessa dello specchio. Però allo stesso tempo si crea una dimensione spaziale interessante perché lavora con la luce e quindi in base alla luce riesce a creare un'atmosfera molto avvolgente. Ancora un pezzo, è ancora un riferimento diverso, il tavolino, il puff trame che avete fatto per DAAA sembrano invece guardare all'altra sponda del Mediterraneo, a un mondo dell'Africa del Nord che mi sembra anche molto attuale, molto contemporaneo. Ecco, è anche questa una vostra fonte di ispirazione? Allora, nel caso del puff trame l'ispirazione è stata in realtà cercare di tradurre la leggerezza e il sapore di, anche frivolo, ma in senso positivo del tessuto e di portarlo su un materiale che normalmente invece è molto pesante, ma è nata un po' anche dal concetto che... È l'azienda che vive forse in una delle terre più belle che abbiamo in Italia, la Puglia, quindi volevamo che uscisse fuori quest'anima così calda, mediterranea. Tra l'altro il progetto nasce sempre per le persone ma con le persone e in questo caso abbiamo uno stretto e bellissimo rapporto di collaborazione con le persone che l'hanno creata, per cui diciamo che è stato proprio un mix di ispirazioni che si sono fuse insieme ed è nato un progetto in questo caso veramente in velocità, proprio molto naturale e volevamo questa leggerezza, volevamo evocare questi sapori di cui parli tu, volevamo anche un prodotto molto femminile, perché comunque la collaborazione con DA va avanti da diversi anni, però quest'anno ci eravamo dati questo impegno di essere più leggeri, più dolci. Per finire, la cennavi prima un grande impegno sul fronte dell'autor, che bisogna riconoscere in questa edizione 2019 del Salone è probabilmente la tipologia, la merciologia più battuta. Nel vostro caso ci sono anche dei riferimenti tra interno e esterno, cioè un autor che in qualche modo cita anche la progettazione per interni. È inevitabile pensare che più viviamo lontani dalla natura, più il desiderio di natura è forte, per cui oggi anche se hai un terrazzo vorresti poterlo vivere come se fosse un bosco, quindi c'è proprio questo interesse a cercare di vivere nella natura, ma stando comodi, accolti in casa, con quella dimensione di intimità come quando vivi in una casa. Quindi questi due bisogni si fondono. Ed ecco che, per esempio, nel caso del divano Bagging, che abbiamo disegnato per l'azienda Maior, esce proprio fuori quest'anima molto funzionale, perché è un progetto estremamente attento alla cura dei materiali, però allo stesso tempo è molto caldo, sembra un divano che migra dall'interno all'esterno, ricco di cuscini, con molta attenzione all'uso dei tessuti, delle trame. C'è la plastica rotazionale per il bracciolo e lo schienale, che sicuramente è uno dei materiali più corretti per l'esterno, perché è il più leggero, è il più economico e il più resistente, ma non si vede, viene coperto dal tessuto e quindi diventa più caldo, più vicino. Quindi abbiamo cercato di unire i due aspetti, la funzionalità e il bisogno di calore e di casa.